Siamo qua col sindaco Giorgio Sagrissani, queste serate di qualità, di musica, arte, che impressioni ti hanno dato? Sono state delle bellissime serate organizzate in modo egregio da Bruno Tabacchini, una mia vecchia conoscenza e con questa rassegna femminarte in cui abbiamo parlato di donne, di bellezza, della loro intelligenza, della loro capacità, della loro arte e è stata realizzata in questo posto bellissimo, questo belvedere sul muo rione Cappuccini che quando i Cappuccini avevano tutta questa zona dell'ortilizzo rappresentava la zona della meditazione, dell'incontro con il creato ecco, questo posto è bellissimo e oltre a questa bella rassegna nell'amministrazione c'è un progetto già finanziato per riqualificare tutta questa zona e farla diventare veramente un punto di vista, un gioiello della nostra San Daniele Più o meno cosa farai qua? Tutto sempre per l'analizzata ma risistemeremo tutto, un arredito urbano, una sistemazione di tutto Anche diciamo un posto dell'asfalto qualcosa? Sì, abbiamo in corso il progetto e c'è il finanziamento Va bene, buon lavoro e buona sera